È probabilmente uno dei momenti più sexy di Ciao Davi nel programma condotto da Paolo Bonolissa sto parlando della sfilata, del cosiddetto defilè. Nella sfilata abbiamo veramente il massimo della sensualità che ogni categoria sessuale, sia uomo che donna, espongono attraverso questa importante esibizione. Partiamo appunto da uno defilè in cui c'è l'uomo e la donna di giorno, poi l'uomo e la donna di sera, l'uomo e la donna intimamente, quindi a letto, a dormire, a livello quindi notturno, e poi l'uomo e la donna in discoteca e l'uomo e la donna per l'appunto a passeggio. Insomma, sono diverse categorie che sono dentro le quattro, le ho dette in modo disordinato, non ordinato, le categorie di uomo e donna che si sfidano a Ciao Davi per quanto riguarda la sfilata, che si propongono a noi tre spettatori di questo strepitoso programma televisivo. Dunque ammirazione, dunque simpatia, dunque emozioni pure per un programma che sa emozionare, ma al tempo stesso che sa affascinare tutti. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, un saluto a voi tutti. Grazie.